Perché più i bambini hanno stimoli è meglio, io ho una figlia unica di otto anni, quindi può avere interessi, espande i propri interessi, può fare qualcosa di diverso, benvenga, quindi cose così all'aperto, abbiamo una bella città per più non sfruttare gli spazi, se sono culturali è meglio, fare cose culturali divertendosi è ancora meglio. Cosa a cui non ci pensiamo più credo perché è impossibile, ormai hai paura di tutto, quindi pensare che possano giocare per strada è una cosa che non esiste secondo me, adesso qui la vivi perché c'è questa manifestazione, o la vivi nei paesi dove sai che le strade sono tranquille, ma chi è che manda i bambini a giocare per strada? È impossibile, a tutte e due, se tutto è mandato, c'è sempre il giusto equilibrio, quindi io, il mio figlio ha l'iPad, lo usa in tempo limitato, l'ho scaricato solo app in inglese per dire, perché così impara anche l'inglese, quindi io faccio solo quello, come ne faccio vedere i cartoni animati solo in inglese, ma quella è una mia cosa, magari se non so il francese, per favorire il bilinguismo che è un'altra di quelle cose che in Italia manca, una seconda lingua, e quindi tentare sempre di avere il gioco con con la primavera.